Il Monopoli rischia di perdere Manuel Nicoletti. Sul difensore ex Catanzaro sarebbe piombato il foggia di Zemman e Pavone, che vorrebbe puntare su di lui per dare freschezza, ma allo stesso tempo affidabilità alla fascia sinistra. 23 anni, ma già 4 tra i pro, Nicoletti risponderebbe perfettamente ai canoni della società rossonera, pronta a fare un'offerta alla ricchia e soci. Il giocatore ha un contratto fino a giugno del 2022, ma avrebbe espresso la volontà di trasferirsi in una piazza più grande e lavorare con un allenatore, che ha scritto pagine di storie importanti nel calcio italiano. Il Monopoli, per sostituirlo, sta cercando di assicurarsi Maestrelli per il ruolo di Braccetto Sinistro, dove se Nicoletti andasse via potrebbe arrivare anche Mercadante. Nel frattempo si prepara la prima amichevole in programma giovedì alle ore 18 al San Chirico di Villa d'Agri contro il Palermo, che dopo Soleri si è assicurato anche Giuseppe Fella, uno degli attaccanti più prolifici, ad aver avvestito la maglia bianco-verde, che dopo la stagione ad Avellino cercherà di riportare in alto la formazione rosa-nero.